Ultima catechesi sul tema del matrimonio della famiglia, prima dell'incontro mondiale delle famiglie a Filadelfia, il Sinodo dei Vescovi di Ottobre, eventi di respiro mondiale che riflettono la dimensione universale della famiglia. Papa Francesco lo ricorda all'Odienza Generale in Piazza San Pietro, nella quale sottolinea come oggi, grazie agli ingenti mezzi e all'appoggio mediatico, ci sia la subordinazione dell'etica alla logica del profitto. In questo scenario una nuova alleanza dell'uomo e della donna diventa, non solo necessaria, anche strategica per l'emancipazione dei popoli dalla colonizzazione del denaro. Questa alleanza deve ritornare a orientare la politica, l'economia, la convivenza civile. Essa decide la abitabilità della terra, la trasmissione del sentimento della vita, i legami della memoria e della speranza. Un compito decisivo di grammatica generativa, dice il Papa, è il nodo d'oro che per la famiglia significa rendere domestico il mondo. Fondamentale in tal senso è la lettura della parola della creazione, che è l'orizzonte della fede e il disegno della salvezza. Il mondo creato, afferma il Pontefice, è affidato all'uomo e alla donna, quello che accade tra loro dà l'impronta a tutto. Francesco evidenzia anche luoghi comuni sulla donna tentatrice, che invece è una speciale benedizione di Dio. Sottolinea l'atteggiamento misericordioso del Padre, la sua tenerezza anche in presenza del peccato, la sua immensa cura nel donarci Cristo, la carezza per le nostre piaghe, per i nostri sbagli. L'invito è a camminare insieme, senza fare proselitismo, ma nell'essere fratelli, un'unità che nasce proprio nella famiglia.